come avete visto dalla foto sopra a londra e quindi in inghilterra hanno fatto una formazione piena zeppa di gente solo su questo prodotto in garde il prodotto che distrugge le onde elettromagnetiche maligne in casa tua e ti permette di vivere in un ambiente salubre assolutamente sano a livello vibrazionale questo prodotto qua oltre a fare benissimo ed è assolutamente da avere con tutti gli apparati elettromagnetici già solo il televisore questa robaccia qua che avete in casa già solo il televisore è una cosa pazzesca fotte il cervello proprio già solo l'internet i sistemi di sicurezza fottono il cervello telefonini e così le onde 5g è un sacco di altra roba legato poi a tante porcherie che negli anni passati e che con il cibo ci stanno facendo mangiare ma in garde è tanto un'opportunità di lavoro legata all'abbondanza all'intendere al volo l'opportunità perché rispetto al mondo tradizionale costa esageratamente meno aprirsi un'attività mettiamo il caso che uno volesse fare il barista o volesse fare non lo so giardiniere appunto volesse fare fare gname oppure preferisci non lo so il tuo negozio intimo qualunque cosa quanto costa affittare un negozio o comprarlo affittarlo è meglio quanto ti costa il magazzino quanto ti costa l'arredamento quanto ti costerà poi il commercialista poi le forniture poi la pubblicità poi le tasse poi un sacco quanto ti costa non lo so vuoi fare una roba da battaglia vuoi investire 30 40 mila euro e tu stai aprendo qualcosa da battaglia e nel mercato tradizionale se ti piazzi con qualcosa da battaglia non puoi fare altro che una vita da battaglia piena di sacrifici a fine mese non ce la farai questo da pagare forse il prossimo mese questo mese ho venduto qualcosa mi sembra di respirare di più ma prossimo mese di nuovo nella merda eccetera 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 ma 30 40 mila gli hai dovuti tirare fuori mettiamo invece caso che tu vuoi fare qualcosa di grande qualcosa di buono quanto tiri fuori beh quanto tiri fuori 70 100 mila 120 mila perfetto engard per qualsiasi giovane qualunque persona che vuole aprirsi un'attività commerciale di vendita di qualunque cosa che sia tu puoi farla io ti sto parlando di farla con i prodotti enagic questo costa 1350 più iva in italia e 20 e rotti euro di spedizione 22 euro mi sembra di spedizione quindi con 1350 più iva che in italia di iva avete sono quanto sono 270 euro e rotti alla fine con meno di 1629 euro voi vi aprite l'attività 1629 euro se torniamo già solo ad aprire qualunque negozietto anche la battaglia la 30 40 mila ma dovete dare avanti almeno almeno tre mensilità più più primo affitto vi siete già pagati due engard ma ancora non avete iniziato nel mondo tradizionale dovete iniziare a far tutto con engard invece immediatamente hai il codice promoter hai il tuo back office puoi vendere a nespa la doccia termale puoi vendere il k8 puoi vendere engard puoi vendere il sapone puoi vendere l'ucono la curcumina puoi vendere il purificatore d'aria tutto quanto con quei famosi 1350 tenendo conto che non darai mai assistenza la dall'azienda tu con l'attività commerciale devi darle come fai tutti i resi anche ok qua non fai magazzino zero fa tutta l'azienda tu devi fare anche magazzino perché se non mai magazzino e se non sei rifornito non hai pezzi da vendere non hai le alternative la gente se ne accorge immediatamente d'altra parte hai aperto qualcosa alla battaglia se invece hai aperto qualcosa di grande oltre a aver tirato fuori 70 100 120 mila devi fare anche un magazzino di 20 30 mila euro ok capito ti sei pagato 30 engard già solo con questo e poi e poi e poi e poi le tasse le imposte vuoi mettere le tasse le imposte nel mondo del marketing piuttosto che nel mondo tradizionale cioè in tutti i casi non regge la pena oltretutto tre modalità per poterlo pagare addirittura con un acconto che va intorno ai 600 euro e poi con sei rate te lo sei pagato da pochissimo cioè voglio dire qualunque persona dovrebbe pensare assolutamente di avere engard perché tanto ti elimina le onde elettromagnetiche di qualunque cosa e puoi vivere in una casa dove puoi vivere veramente tra vibrazioni sano ricco e libero capendo che cosa sono le vibrazioni e le frequenze e poi ti potrai permettere di avere un'attività che nel mondo del marketing tu cominci a darlo alle persone a cui vuoi bene che ami ma che ne sai loro a quanti lo venderanno e che ne sai quegli altri quanti ne venderanno e quindi apri le porte all'abbondanza all'opportunità diverso sei dentro il tuo negozietto nella tua attività e devi aspettare che il cliente entri dentro alla fine con engard nel giro di un paio d'anni ti sei costruito quello che con un'attività commerciale di qualunque tipo legata al mondo tradizionale non puoi costruirti in 25 anni chiaro che anche qui nessuno ti regala niente devi essere tu bravo a vendere ma d'altra parte se ti sei aperto il tuo negozietto da 30 40 mila euro da battaglia non devi essere bravo a vendere e invece adesso che hai aperto quello da 100 120 mila ma non devi per forza essere bravo a vendere se no sei nella merda pieno zeppo di debiti avete capito qual è l'opportunità di engard stare meglio in salute e creare un sacco di abbondanza per voi e per tutte le persone che sono attorno in questo modo si conoscono anche discorsi differenti legate alle vibrazioni e alle frequenze si comincia ad abbandonare quel mondo marcio che poi alla fine ti costringe invece ad aprirti il negozietto a 30 40 mila o l'attività bella 120 20 mila euro credendo di aver fatto una grande cosa ma tutti fine mese non saprai mai per tutto il resto della vita se questo fine mese ce la farai a pagare tutto e poi sarai felice come sono stato felice io per ben 27 anni con le mie attività commerciali quando anch'io ero intrappolato nel matrix ad avere una madre essendo che lei aveva messo le firme sui miei debiti aperti veniva a prendersi gli incassi e mi diceva va dai anche questo fine mese ce l'hai fatta sei riuscito a pagare tutto respiriamo raga respiriamo aria buona però pulita senza onde elettromagnetiche marigne en garde vi voglio bene a tutti quanti dal primo all'ultimo io vi adoro veramente